Ordine del giorno numero 3, comunicazioni del sindaco sulla nomina dei componenti della Giunta Comunale. Allora, con decreto numero 39 del 21.05.2011, prototipoio 1249, abbiamo decretato assessore comunale della persona di Clanzoni Francesca, con delega a famiglia e servizi. Sempre con lo stesso decreto, però numero 38 del 1247 al protocollo, Vassi Roberto Bortolo, governo del territorio, la delega. Decreto numero 37, che doveva essere il primo che dovevo leggere, con nomina di assessore vice sindaco, a Zerra Valerio, con delega ai lavori pubblici e al patrimonio. Faccio un'ulteriore comunicazione nel quale comunico che il capogruppo, il gruppo di maggioranza è nei Zomni Roberto e insieme diamo la delega alla cultura e promozione del territorio, quest'anno, segretario, in promozione del territorio, mentre invece un'altra delega a Marco Botticchio, sport, innovazione e politiche giovanili. Ecco, dunque, ripeto, la squadra di governo nella giunta è composta da Zerra Valerio, vice sindaco, Bassi Roberto Bortolo, assessore, e Franzoli Francesca, assessore. Io farei anche un bel applauso. Sì, ecco, ovviamente, ciò che non è stato espressamente delegato, sono in capo al sindaco. Vi sono osservazioni? Ok. Buon linee del giorno. Visto che ha detto la comunicazione nel capogruppo della maggioranza, chiedevo se ci sono le indicazioni da parte dei due gruppi di maggioranza che ci abbiamo. Per noi siamo in giunta. Allora, quindi per il gruppo, per la maggioranza, per la maggioranza. Grazie.